Questo è il Francesco Neri che troviamo, un Francesco Neri disposto nella quinta stagione è un Francesco Neri disposto a ricominciare a vivere, a riprovare, a sorridere ma nello stesso tempo è ancora attanagliato dai sensi di colpa e da questo passato così ingombrante A che pensi? Io alla pensione Come alla pensione? Sì perché non sarà tanto la mia, sarà poca, però io sono curioso di sapere quant'è, capite? Seguite così non ci arriviamo Lo faccio solo perché sei diventato papà Grazie, pure buono A proposito di questa appunto amicizia tra me e Nappi, lavorare con Enrico è divertentissimo perché Enrico è un attore esplosivo, sembra quasi sempre, pur seguendo un copione, però sembra quasi sempre che improvvisi poi appunto laddove c'era la possibilità di fare un po' di ironia ci lasciava uno spazio un pochino all'improvvisazione quindi rimanere seri era difficile, soprattutto perché mi veniva naturale tante volte sorridere però venivo richiamato all'ordine dai registi perché Francesco Neri può sorridere ma non può ridere quindi dovevo sempre controllare questo stato d'animo che non fosse troppo goliardico comunque è un'esperienza sicuramente molto divertente e un elemento in più del mio personaggio Considero un privilegio come attore girare una serie di questo tipo proprio perché la giriamo tra le montagne più belle del mondo è un elemento fondamentale da un punto di vista visivo, d'immagine per la serie stessa che appunto ha un'apertura, una luminosità, una luce così forte che a volte basterebbe semplicemente un po' di musica su quelle immagini e già stai intrattenendo il pubblico è un elemento molto importante per un attore perché trova ispirazione e concentrazione in quei posti solamente guardare e contemplare quelle montagne, quei laghi respirare quell'aria, sentire quegli odori della natura così incontaminati, così perfetti ti mettono una condizione psicologica ed emotiva perfetti per poter recitare è l'unica serie che viene girata in quei posti ed è uno sforzo incredibile quindi uno non deve pensare a soltanto che bello dietro quel che bello c'è tanta fatica, c'è tanto sforzo fisico molte volte devi girarla dove non c'è ossigeno arrivare in dei posti dove non ci si arriva neanche con il cavallo quindi figuriamoci con la macchina per portare i mezzi, le telecamere le cose che servono per girare un film a spalla il cambiamento climatico lì è improvviso un momento c'è il sole a 27-28 gradi due ore dopo scende di 10 gradi la temperatura e c'è la pioggia quindi è imprevedibile quindi da questo punto di vista credo che per la storia sia l'elemento, il quid in più era appena morta mia moglie lo so lo so e la comprendo questa cosa tu sei andato avanti da solo io pure, non ci vedo niente di male di male c'è che sei andata dall'uomo che ha ucciso mia moglie ci sono andati soltanto perché lui conosce qualcuno che può operare il mio aneurismo e tu gli credi? sì, gli credo, va bene? quando so che ho una scena a cavallo sono felice perché c'è l'alternanza tra la scena avventurosa a cavallo e il pappone invece di 4-5 pagine è la scena più dialogata quando so che devo andare a cavallo ho uno spirito completamente diverso perché è un po' il bambino che sta recitando, che sta lavorando è divertente, mi appassiona, mi emoziona obiettivamente ci sono dei pericoli perché andare a cavallo molte volte soprattutto su quei terreni è rischioso puoi cadere in qualsiasi momento però l'azione e soprattutto l'azione a cavallo è quello che mi fa amare in particolar modo questo personaggio